Assessore, ma ci sono novità? No, al telefono non rispondo. Nel mezzo del casin di nostra asena mi ritrovai imbottigliato come il vino. Guardo a superare San Pierdarena, scusommi per l'arrivo mio tardivo. Oh, ragazzi, ce lo facciamo un giro con le biciclette di Palazzo Ducale? A Genova è assolutamente impossibile con le salite che abbiamo. Tranquilli, tranquilli, chiacchiereremo e basta, le biciclette sono elettriche. Dai, andiamo, go, go, go! Andiamo! Con questo entusiasmo andiamo, allora. Andiamo! È bello perché così riesci a evitare il traffico infernale di Genova. La mobilità è elettrica, ragazzi, non inquina. E poi senti che silenzio. Hai voluto la bicicletta, pedala lei. Andiamo! Ragazzi, Genova è proprio una città meravigliosa. E noi di Iran abbiamo a cuore la sostenibilità, i territori. Pensiamo che questo servizio possa essere veramente meraviglioso anche per tutti i visitatori di Palazzo Ducale. Che ne dite? Dico che è una bella cosa, però purtroppo io adesso vi abbandono, scappo in consiglio comunale. Ma te la porti via? Prendo la bicicletta. Almeno una volta sarò puntuale. Ciao, ciao! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao! Ciao! Ciao a tutti! 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 Ciao a tutti!